Buon Natale a tutti dalla redazione di Medianews, rivediamo insieme le notizie più rilevanti dei giorni passati. Mafia sequestrati i beni per 28 milioni di euro al titolare della concessionaria Zeus Car di Palermo. Due società operanti nel settore della vendita di autoveicoli, una società immobiliare, tre abitazioni, sei fabbricati ad uso commerciale, due terreni a Palermo e provincia, nonché disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro. Le ha sequestrati il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo in esecuzione di un provvedimento emesso al Tribunale di Palermo all'imprenditore Rosario Castello, 62 anno originario di Villa Abate, noto per la rivendita di automobili Zeus Car, condannato nel 1998 dalla Corte di Appello di Palermo per concorsi in associazione a delinquere di stampo mafioso perché è ritenuto soggetto a disposizione della famiglia di Brancaccio Corso dei Mille, alla quale nella sua veste di commerciante di autoveicoli avrebbe procacciato in passato autovetture pulite da porre nella disponibilità di latitanti, curando inoltre il reperimento di luoghi sicuri per gli incontri degli uomini d'onore. La pericolosità del soggetto è scaturita sia dalle indagini che avevano portato alla cattura del latitante, Lorenzo Tindirello e dei soggetti che ne avevano favorito la latitanza. A parlare di lui e del suo clan sono stati pentiti Pasquale ed Emanuele Di Filippo, Giovanni Drago, Pietro Romeo, Salvatore Spataro e Agostino Trombetta. Le loro dichiarazioni sono state poi riscontrate in sede investigativa. Secondo i collaboratori di giustizia si tratta di un fiancheggiatore del sodalizio criminale, tanto da determinarne la responsabilità penale per concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Una messa è stata celebrata nei locali dell'ormai chiuso pastificio a Tomasello di Casteldaccia, divenuto luogo simbolo della crisi. L'iniziativa è della CIS Palermo-Trapani. Il lavoro che non c'è, incerto a rischio, è la crisi di tutti i settori. Questi temi al centro della messa, celebrata stamattina in occasione delle festività natalizie nei locali dell'ormai chiuso pastificio Tomasello di Casteldaccia e organizzata dalla CIS Palermo-Trapani. Un simbolo della crisi che ormai è divenuta emergenza sociale, afferma il sindacato, e che non fa altro che privarci delle nostre migliori realtà produttive, commerciali e industriali. La funzione religiosa è stata celebrata dall'arcivescovo di Palermo, il cardinale Paolo Romeo, alla presenza dei segretari della CIS Palermo-Trapani, Daniela De Luca e CIS Sicilia Mimmo Milazzo, della famiglia Tomasello, del sindaco di Palermo Leoluc Orlando, dell'assessore regionale alle attività produttive Linda Vancheri e di una delegazione dei lavoratori delle aziende in crisi, dai call center ad Anzaldo Breda e Keller, ex Fiat, oltre alla stessa Tomasello. In questo particolare momento dell'anno, commenta Daniela De Luca, segretare CIS Palermo-Trapani, vogliamo mostrare ancora di più il nostro sostegno a tutti i lavoratori di Palermo e Trapani che temono per il loro futuro. La presenza a questa iniziativa, insieme con il sindaco di Casteldaccia, è l'ulteriore conferma dell'impegno dei sindaci siciliani per lo sviluppo dei territori, ha dichiarato invece Leoluc Orlando, presidente di Anci Sicilia. La crisi deve e può essere superata utilizzando l'attenzione per prodotti agroalimentari di qualità che Lanci, con l'assessorato agricoltura, è impegnata a promuovere in vista di Expo 2015, dedicato espressamente all'agroalimentare. Il cardinale Paolo Romeo, nel corso della messa al pastificio a Tomasello, ha sottolineato l'importanza di una chiesa che sia sempre più vicina ai lavoratori in difficoltà. La chiesa, seguendo l'insegnamento e il mandato del maestro, di Gesù, del pastore, deve stare accanto ai più fragili, deve stare accanto a chi soffre, deve stare accanto a chi si sente marginato. E certamente questo è un gesto di vicinanza a quanti oggi sono in difficoltà, in difficoltà seria e celebrare una messa nel giorno del Natale significa un poco fare una scaletta di valori. Io sono qui assieme col sindaco di Casteldaccio, sono qui come sindaco di Palermo, come Presidente dell'Anci Sicilia e rappresentante di tutti i comuni siciliani che vedono in questa avvertenza in qualche modo un ulteriore segnale di allarme, ma anche dobbiamo doveri trasformare questo segnale di allarme in un elemento di speranza. Stiamo parlando di un'azienda che lavora nel settore agroalimentare, la Sicilia si presenta adesso all'Expo 2015, il cluster biomediterraneo, può essere un'occasione straordinaria per trasformare questo che è un periodo di sospensione di produzione in una premessa per la ripresa della produzione. Questo è un pastificio storico che ha più di un secolo di attività, purtroppo è capitato a me, il destino ha voluto così che dopo 104 anni dovessi essere io a firmare le lettere di licenziamento per gli operai e quindi la loro messa in mobilità. La situazione era abbastanza grave perché per una crisi di liquidità siamo stati costretti a dichiarare questa, io chiamo, sospensione dell'attività più che fine dell'attività. Noi abbiamo chiamato a raccoltare non soltanto il nostro gruppo dirigente a essere accanto in questo momento del Natale ai lavoratori, verso le periferie, come ci chiede Papa Francesco. Noi però abbiamo voluto dare simbolicamente un segno forte, vogliamo essere insieme in questo momento lavoratori, sindacato, impresa, istituzioni, perché vogliamo dire basta a un'assenza di un gruppo dirigente complessivamente inteso che ha dato per scontato la possibilità di sopravvivenza di un sistema nel nostro territorio. A Villa Abate l'Associazione Pomara 2001 ha costruito la casa di Babbo Natale per tutti i bambini della Borgata. Questa è la casa di Babbo Natale che abbiamo costruito con le nostre manine e devo dire che Babbo Natale è riuscito insieme a noi a creare tutto quello che vedete attorno. Babbo Natale, noi sappiamo benissimo che i bambini la adorano e che amano portare le letterine e in cambio cosa ricevono? Dei regali, hanno portato tutte queste letterine, mi passano il tempo a leggere. E faremo in modo di fargli ricevere e recapitare tutti i regali. Mi raccomando, giorno 23 ci sarà la consegna dei regali proprio qui, nella casa di Babbo Natale e per la Borgata passerà la slitta che tra un po' vedremo per le vie della Borgata a Pomara. L'associazione Pomara 2001 da qualche anno contribuisce a organizzare questi eventi. Quest'anno abbiamo pensato alla casa di Babbo Natale. La gente sta rispondendo bene perché vengono a trovare, come vedete, una bella realizzazione. Grazie all'aiuto di tutti i soci dell'associazione, con le nostre mani, con le nostre forze e con tutto l'amore che mettiamo su queste cose, riuscivamo a realizzare questo che poi pensiamoci ma siamo bravi veramente. Noi siamo qua ogni domenica fino al 6 gennaio, dalle 4 alle 20. Chiunque vuole venire a fare la foto con Babbo Natale, a consegnare la letterina e poi il 23 sera gireremo per la Borgata di Pomara a consegnare i regali ai vari bambini che hanno chiesto di portare il regalo. E nei giorni scorsi è stata approvata la bozza di bilancio di previsione 2015 della regione siciliana. Adesso è corsa contro il tempo all'Ars per la votazione definitiva entro il 31 dicembre. Approvata la bozza di bilancio di previsione 2015 della regione siciliana, portata in giunta dall'assessore all'economia Alessandro Baccei. Adesso il documento economico andrà all'analisi della commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana che dovrà vararlo entro lunedì 29 dicembre. Il documento dovrà poi andare in aula il 30 ed essere approvato entro il 31 almeno come esercizio provvisorio. Nel bilancio non c'è alcun accenno ai precari degli enti locali per i quali Roma ha detto no alla proroga se impiegati in comune in dissesto o predissesto. Di contro però su proposta dell'assessore al lavoro Bruno Caruso è stato approvato il provvedimento di stanziamento per i processi di riqualificazione tecnologica dei dipendenti del call center Accenture dopo l'accordo raggiunto nel tavolo romano la settimana scorsa. È stata inoltre richiesta la dichiarazione dello stato di calamità per ulteriori comuni nella provincia di Agrigento, Catania, Messina e Siracusa in seguito agli eventi meteorici del 5 novembre scorso. I sindacati però non sono soddisfatti, non è accettabile che al centro della spending review ci siano sempre i lavoratori ha commentato il segretario generale della CGL siciliana Michele Pagliaro quando in continuazione emergono scandali che danno il senso che è il vero buco nero della Sicilia e dell'Italia sono la corruzione, l'illegalità e le mancate riforme. Parlando in conferenza stampa del lavoro svolto per la stesura del bilancio l'assessore all'economia Alessandro Baccei si è commosso quando ha riferito di aver incontrato tanti lavoratori che da mesi non ricevono gli stipendi. Sui tagli stiamo ancora lavorando, per ora abbiamo lavorato per preparare un bilancio per consentirci di avviare l'esercizio e di poter spendere l'anno prossimo quindi un esercizio provvisorio che sarà di quattro mesi è stato già difficile chiudere il bilancio in questa maniera perché come spiegherò a breve diciamo che le spese erano abbastanza superiori alle entrate per cui di fatto abbiamo cercato di assicurare almeno fino ad aprire la copertura delle spese indispensabili quindi di garantire gli stipendi ai lavoratori della regione partecipate, enti, precari e quant'altro. Fatto questo rimaneva poc'altro quindi abbiamo lavorato per garantire i trasferimenti alle province e ai comuni non avendo ancora presentato e approvato una finanziaria perché è un lavoro complicato non abbiamo potuto prenderci benefici quindi ora una volta approvato l'esercizio provvisorio abbiamo già in un buon stato di completamento la finanziaria c'è un processo di dicere sarà un processo di discussione all'interno ovviamente prima della giunta, commissione e quant'altro proprio per approvare questa legge finanziaria che avrà degli interventi che sono principalmente interventi di armonizzazione con lo Stato quindi niente di eccezionale, niente sconvolgente solo l'applicazione di normativa regionale l'armonizzazione con la normativa nazionale il tener conto delle raccomandazioni che sono state fatte negli anni dalla Corte dei Conti e quindi sostanzialmente mettersi in regola niente di diverso da questo per il momento ma io ho letto molti attacchi sui tempi però io da quando mi sono insediata la prima cosa che ho detto è che avrei presentato tutto il 15 dicembre il 15 dicembre tutto era pronto il 16 è cominciato un processo di condivisione con un minimo di modifiche per cui considerando che quando ci siamo insediati il percorso che ha avuto questo governo purtroppo ci siamo ridotti all'ultimo era previsto nei tempi non c'è stato nessuno slittamento rispetto a quanto ho detto a prima conferenza stampa e rispetto alle tempistiche Blutec ha sorbito gli operai ex Fiat l'incontro al Mise con la New Co costituita dal gruppo Metec nell'ambito dell'operazione di acquisizione del ramo di azienda dello stabilimento di Termini Merese Da Fiat a Blutec dopo tre anni con i cancelli della fabbrica chiusi gli operai in cassa integrazione e progetti falliti sembra aprirsi una nuova prospettiva proprio quando mancavano pochi giorni al licenziamento collettivo il gruppo Metec subentrato in extremis alla Grif SPR ritenuta inaffidabile dal punto di vista finanziario è riuscito a strappare il via libera di FIM, FIOM e Wilm pronti a firmare l'intesa grazie alle garanzie del Ministero per lo sviluppo di Invitalia che ha vidimato il piano finanziario della Holding che da 40 anni è sul mercato della componentistica per auto lavorando per Fiat ma anche per altre case automobilistiche tedesche e francesi la firma sull'intesa tra questa sera e domani mattina come conferma il Mise con una nota ufficiale Blutec controllata al 100% da Metec rileverà il ramo d'azienda alla New Co che parte subito con un capitale sociale di 25 milioni di euro saranno trasferiti dal 1 gennaio del 2015 i dipendenti Fiat e Magneti Marelli che manterranno i livelli retributivi chi ha i requisiti per l'accompagnamento alla pensione circa 130 operai riceverà un incentivo di cui si fa carico Fiat che tra l'altro liquiderà il TFR al personale che transiterà in Blutec Suggestivo presepe nel retro bottega di un commerciante di via Eugenio Lemiro a Palermo il signor Sbacchis vi lavora da circa 50 anni aggiungendo sempre nuovi accorgimenti il presepe si può visitare tutti i giorni 47 anni di lavoro qua di quant'anno che mi sono sposato e ogni anno ogni anno ha andato sempre a allargarlo allargarlo fino ad arrivare a questo punto e grazie a mia mamma che mi ha insegnato a lavorare da piccola a 6 anni non mi ha sfruttato perché non avevamo bisogno di andare a lavorare però mi ha insegnato dei messieri che se non era per mia madre questo presepe non lo potevo fare ogni messiere che ho cambiato c'era un motivo poi ho frequentato il testo industriale e c'era la meccanica e c'era Fallegna Maria con l'idea superano queste tecnologie e i studi con la fede invece superano tutti i mali di questo mondo avendo fede io ho fede perché Dio mi ha messo in prova a me allora c'è dei problemi ci sono problemi per ora se no verrebbe ancora una cosa più bella purtroppo ci sono problemi che io non posso risolvere per me è un quadro io una notte non dormo io vedo quello che devo fare dipingo c'è il sfondo del mare c'è il cratere i pastelli che girano però c'è un problema perché sono caduto là dentro ho macinato tutto e l'ho rifatto tre volte tu cosa preferisci? l'albero di Natale o il presepe? il presepe e perché? perché per me crea un'atmosfera più natalizia come se fosse un quadro a chi ti piace di più dei personaggi? l'angelo lo zappatore e Gesù Bambino ed è ancora emergenza rifiuti in Sicilia il ministero dell'ambiente affranato in merito al conferimento di poteri speciali al governatore Crocetta per affrontare l'emergenza il ministero dell'ambiente frena in merito al conferimento di poteri speciali al governatore Crocetta per affrontare l'emergenza rifiuti esplosa in Sicilia il no delle commissioni di Camera e Senato è motivato dal fatto che occorre trovare soluzioni alternative alle discariche e non si possono dare poteri speciali senza un chiaro obiettivo ed interlocutori esperti della materia i presidenti delle commissioni ambiente hanno inoltre riferito di aver scritto a Renzi chiedendo di saperne di più su quanto sta accadendo in Sicilia e sulle richieste del governatore Crocetta ad ogni modo dopo l'incontro al di Castero il presidente e l'assessore all'energia Vania Contrafatto si sono detti soddisfatti intanto abbiamo fissato una roadmap per affrontare l'emergenza di scariche ed evitare che i rifiuti rimangano in strada spiega il governatore dal ministero è arrivata un'apertura all'invio della spazzatura fuori regione vedremo se all'estero o in Italia comunque dovremo in parte smaltirli fuori stiamo affrontando una soluzione difficile ma possiamo uscire da questa crisi che ha origini antiche dice invece l'assessore Contrafatto Crocetta ha parlato anche di eventuali incentivi per la differenziata con conseguente aumento delle tasse per i cittadini e per i comuni che non la rispettano Natale Amaro per gli ex PIP di emergenza Palermo niente soldi la regione non può pagare i sussidi perché le risorse facevano parte dei fondi PAC che il governo Renzi ha deciso di togliere alla Sicilia sarà un Natale al verde per i 3.200 lavoratori ex PIP di emergenza Palermo la regione non può pagare i sussidi perché le risorse pari a 11 milioni di euro facevano parte dei fondi PAC che il governo Renzi con la legge di stabilità ha deciso di togliere alla Sicilia per destinarli al finanziamento di imprese una notizia che arriva come una doccia fredda anche perché solo pochi giorni fa la Corte dei Conti aveva registrato il decreto di finanziamento di 11 milioni e 505 mila euro necessari per la copertura dell'assegno di sostegno al reddito mensile per i lavoratori fino alla fine di aprile una soluzione tampone ma che comunque aveva rinfrancato gli animi adesso invece una nuova brutta notizia situazione diversa invece per i 20 mila precari dei comuni siciliani per loro è arrivata da Roma una deroga che permette una proroga annuale anche se l'Arsa deve ancora emanare una legge e non può che farlo insieme all'esercizio provvisorio come al solito la politica fa concludere l'anno e precari in una condizione di profonda incertezza commentano i sindacati il ritardo con cui il governo regionale sta lavorando all'esercizio provvisorio fa sì che la proroga dei precari se va tutto bene si discuterà il 30 dicembre a 24 ore dalla scadenza dei loro contratti alla biblioteca comunale di Villa Abate le associazioni Donando con Amore e La Ruota hanno donato giocattoli ai bambini i giocattoli sono stati regalati alle associazioni dal centro oncologico pediatrico dell'ospedale civico di Palermo siamo qua per festeggiare il Natale abbiamo organizzato le due associazioni La Ruota e Donando con Amore a Villa Abate questa manifestazione appunto per intanto dare una serie di regali ai bambini che sono stati donati a sua volta dal centro oncologico ci sono momenti in cui deve fare il passo indietro e qua spuntano fuori gli uomini e i sentimenti il Natale i bambini hanno la precedenza su tutto e anche se non c'è un'amministrazione che funziona noi facciamo da supplenti alle mancanze per cui organizziamo eventi continuamente sempre solo a spese nostre per amore e per la gioia dei bambini vorremmo che ci fosse veramente più bimbi perché non sono solo questi non sono solo questi magari speriamo l'anno prossimo che siano veramente tutti e non sono solo di Villa Abate bimbi se è il caso di Ciminna o Misilmerio o Palermo anche di paesi sono scesi intanto il primo stock grande di giocattoli è stato donato dall'associazione che gestisce la signora Bulpetti la SLT dell'oncologico di Palermo poi il resto sono stati donati generosamente a tutte le mamme del gruppo un'idea dettata da una nonna e da una mamma una mamma di quattro figli ma una nonna di tanti nipoti non solo i suoi ma anche tutti quelli del gruppo quindi dettato dall'amore verso tutti i bambini niente di più niente di meno tra l'altro basta vedere i bambini felici e si possono vedere siamo a posto un sorriso ci hanno solo ripagato con i loro sorrissi che per noi già è tanto e adesso gli auguri di padre l'amendo l'arciprete di bagheria che lancia un appello anche per la gente che soffre carissimi sento il dovere di esprimere vivi voti augurali per le prossime feste natalizie il nuovo anno 2015 tuttavia mi chiedo con profonda consapevolezza dal particolare momento che stiamo per vivere ci si può davvero augurare buon natale buon anno purtroppo la festa più popolare partecipata dell'anno con il suo clima luminoso e calorosamente familiare entra apertamente in contraddizione con le situazioni quotidiane di disagio e di tristezza che attraversano tante famiglie ed in particolare con la realtà economica e sociale del nostro territorio natale sì ma natale per chi ci chiediamo per quale categoria di persone essere buonisti a natale non serve a risolvere i problemi occorre impegno coraggio per dare una concreta speranza di lavoro di lavoro ai tanti disoccupati istituendo adeguati posti di lavoro produttivo che valgano ad assorbire la disoccupazione che ha raggiunto punte veramente disastrose specie giovanile e che ognuno dei più angosciosi problemi del nostro territorio e non solo per concretizzare un piano di risanamento edilizio urbano delle infrastrutture dei servizi pubblici occorre concreto impegno e buona volontà quanto le parrocchie la carità cittadina e i singoli volontari fanno in questo settore non può assolutamente coprire l'arco delle reali necessità rinascere riprendere il cammino è l'augurio è la speranza ma occorre la volontà e la collaborazione di tutti non si può più delegare nessuno bagheria deve ritornare ad essere la bagheria dell'arte della cultura delle oneste persone della legalità della giusta libertà carissimi allora il natale del signore sia per noi tutti motivo di non perdere la speranza e l'anno che sta per iniziare con la buona volontà di tutti possa segnare un autentico momento di crescita civile morale e sociale auguri di cuore a tutti ed è tutto grazie per essere stati con noi vi auguriamo ancora una volta un buon Natale un buon Natale un buon Natale Grazie a tutti.